Musica Sale la preoccupazione per i commercianti del decimo municipio dopo la crisi che continua a mettere in ginocchio l'economia del territorio ora a preoccupare l'elevato tasso di criminalità a Ostia e nelle introterralidenze. Secondo una ricerca realizzata su un campione di 400 imprese dall'Istituto Format Research di Roma e presentata questa mattina nella sede di Ascom Litorale ad allarmare i commercianti di Confcommercio e l'aumento di estorsioni, furti, rapine e usura che hanno colpito il 69% delle attività commerciali presenti in tutto il decimo municipio. Questo è un campione rappresentativo delle imprese del commercio e dei pubblici esercizi che insistono sul territorio di Ostia, tutto il decimo municipio. Le tematiche affrontate sono quelle dell'andamento economico delle imprese, purtroppo le imprese di Ostia escono da un 2014 che è andato molto male, un anno orribile. Le prospettive per il 2015 sembrano appena migliori però è ancora complesso per gli imprenditori parlare di un anno di svolta. Qualche segnale di ripresa c'è ma sono veramente molto labili ed esistono più nella volontà di avere fiducia delle imprese che non nelle evidenze empiriche. Non ci sono evidenze empiriche di ripresa in questo senso. Un territorio in qualche modo depresso dalla crisi, una crisi che certamente non è nata a Ostia ma della quale Ostia invece paga in qualche modo gli effetti. Oltre poi ad alcuni fattori che sono endogeni di Ostia, una fortissima ripresa della criminalità. Gli operatori di Ostia avvertono in modo molto deciso l'aumento dei furti, delle rapine e poi in qualche modo il mancato sostegno ai flussi turistici verso questo territorio che potrebbe rappresentare una perla del litorale romano e che invece purtroppo vive di potenzialità non sfruttate. Ciò che chiedono gli imprenditori di Ostia alla pubblica amministrazione, nella fattispecie al municipio che governa questo territorio, è una maggiore attenzione a quelle che sono le esigenze delle imprese e per quanto riguarda il decoro urbano, la viabilità, i trasporti con il resto della capitale che certamente potrebbero influire positivamente sull'attività economica e poi sulla domanda, sui consumi di questa città. Diciamo che nel territorio locale tutto il litorale si sta risentendo molto sia della dinamica economica che è di crisi e che è evidente a tutti ma anche della mancanza di una strategia di lungo periodo da parte dell'istituzione e da parte di chi dovrebbe sostenere queste imprese. Quello che noi chiediamo è che non ci si abbandoni alla crisi economica ma si cerchi di fare sinergia, di fare rete. Abbiamo avuto con la regione Lazio per esempio ieri un incontro molto interessante riguardo le reti d'impresa. Sono una grande opportunità che è stata costruita insieme a Confcommercio e che renderà possibile la ripartenza del territorio. Ci auguriamo che anche le istituzioni locali ci diano una mano. Siamo in una situazione per i commercianti e per le piccole e medie imprese disastrosa. Questo è quello che esce fuori da questi dati, da questo sondaggio e attraverso questo sondaggio possiamo andare a migliorare e cercare di capire quale potrebbe essere la strada per migliorare o per confrontarci comunque con quella poca e scarsa politica che ci è rimasta sul nostro territorio e a livello comunale, regionale e nazionale. perché soltanto attraverso chi ci governa possiamo riuscire ad attraversare questa strada che sta portando in default la maggior parte delle imprese. Noi riusciamo in tutti i modi a tenere aperte le nostre attività con tanti sforzi, tante volte anche colpevolizzando le nostre scelte ma poi alla fine da colpevolizzare noi abbiamo ben poco, forse dobbiamo invertire questo trend e cominciare a colpevolizzare chi effettivamente si sta mandando nel baratro.